L'artiglio del tempo. E questo è il titolo dell'ultimo giallo pubblicato dalla nota scrittrice giallista napoletana Anna Vera Viva. L'autrice indaga e scandaglia l'abisso umano, in particolare l'anima di Napoli e dei napoletani, attraverso una sapiente, raffinata ed elegante architettura compositiva che si articola in vicende, seppur distanti nel tempo, collegate da un comune fluide. Una duplice indagine condotta su piani diversi dai protagonisti del romanzo che non esentano il lettore da colpi di scena ed inattese conclusioni. Sullo sfondo la lettura di una pagina di storia inquietante, quella nazista, che attraversa Napoli e la sua vita negli anni 40 del secolo scorso. E poi la sanità con i suoi dissidi e i suoi contrasti, i suoi colori e le sue tinte, i suoi riti e la sua storia. Ai nostri microfoni Anna Vivavera. Ho tentato un esperimento. Mi faceva piacere rompere un po' quelli che sono i limiti del giallo e costruirci intorno anche un'indagine storica. Infatti in questo caso noi troviamo i nostri soliti protagonisti principali, quindi padre Raffaele, Don Peppino e Assuntina, ma che indagheranno su due piani temporali completamente diversi, i giorni nostri e il 1943. E' quello che è un po' tutto il periodo delle leggi razziali a Napoli, le quattro giornate, l'arrivo degli americani, i bombardamenti. Sullo sfondo costruita con molta delicatezza e proposta al lettore è anche la ricostruzione di una pagina storica nazionale, europea, mondiale, dallo sfondo scuro. Come si coniuga la pagina nazista, la storia nazista, con quelli che sono i colori, le ritualità, la sacralità e anche la dissacralità di Napoli? Infatti Napoli stravolge, unica in tutta Europa, la storia dei nazisti a Napoli perché si libera, unica in tutta Europa, si libera da sola dai tedeschi. Quando poi gli americani arrivano trovano Napoli già liberata e tutti gli ebrei rimasti a Napoli, proprio perché appunto la storia a questo percorso cambia, il napoletano cambia il percorso della storia perché le retate agli ebrei dovevano partire da Napoli, ma quando arrivano gli ordini da Berlino i napoletani l'hanno già liberata, quindi loro cominciano da Roma. Chi ha avuto paura, perché c'era da aver paura, Napoli è stata la città più bombardata d'Italia. Ripropone personaggi, riprende anche lo sfondo alla base, cioè il quartiere della sanità, rimette ancora al centro la sanità con una interpretazione ed una espressività diversa. Si può parlare dell'inizio di una saga che continuerà con altre opere, si può immaginare una trilogia o è una volontà dell'autrice aver riproposto personaggi, luoghi e ambientazioni? No, sicuramente possiamo pensare ancora ad altre opere con questi stessi personaggi, anche perché la caratteristica di questi personaggi è quella di essere sì all'interno di questo quartiere, ma di esplorare di volta in volta dei mondi completamente nuovi e poi via via indagheremo insomma mondi sempre diversi, quindi che ci lasciano quello che è il colore della sanità, però vista con gli occhi di personaggi sempre diversi. Salentina di nascita dal 1982 nella città di Napoli, qual è stato, qual è nel corso di questi anni il suo rapporto con Napoli e con i napoletani? Bellissimo, bellissimo. Napoli è una fonte di ispirazione infinita, è una fucina di idee che trovano subito spessore, idee che trovano subito corpo e i napoletani chiaramente un ottimo rapporto. L'evento si è tenuto presso la libreria Mondadori in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, da tempo diventata uno dei salotti culturali della città ed aperta a numerosi eventi. Ascoltiamoli dalla diretta voce del titolare Carmine Paino. Contiamo di sviscerare bene un po' tutti i motivi del romanzo e soprattutto facciamo venire fuori questo aspetto nuovo di questo romanzo, praticamente l'elemento storico che si intreccia alla vicenda gialla tipica della scrittrice. Ci saranno nei prossimi mesi per il periodo estivo altre presentazioni ed altri eventi? Ultimamente abbiamo presentato dei libri a quanto interessanti per quanto riguarda soprattutto il tessuto culturale della nostra zona. La settimana scorsa ad esempio abbiamo presentato una novità il libro di Camillo Linguella, Gaeta, ultimo atto. Abbiamo la presentazione di un libro della professoressa De Filippo del liceo classico, un libro autobiografico ma nello stesso tempo è ricco di spunti culturali soprattutto in rapporto alla sua terra natale e di Sapri e quindi mette nella narrazione sua personale gli elementi culturali tipici di quella terra.